contro chi è Luca? contro chi è Luca? contro Andrea, no, contro i titani Andrea contro Luca bravo Luca, la presenza anticipa più spaventare in avanti, in avanti, in avanti, no, è in avanti questo cazzo di piedi andre contro così Luca lo fa Non ho capito 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 Non ho capito